Stavo parlando con Blackboard l'altro giorno e lui mi ha chiesto che cosa è cambiato, perché ce ne torniamo a casa. Io gli ho detto niente, ma non è vero sai, secondo me è cambiato tutto. Io so che io sono cambiato. Sai, un mio amico mi ha chiesto prima che venissi qua, quando stavamo per imbarcarci, mi ha chiesto, ma perché andate a combattere una guerra altrui? Cosa credete di essere degli eroi? Non gli ho saputo rispondere al momento, ma se lo chiedesse adesso direi di no. Direi che non è per niente così, che nessuno chiede di diventare un eroe. Solo che le cose vanno così a volte. Parlerò con tua madre e tuo padre quando torno a casa. Non gli ho saputo rispondere al momento, ma non è per niente così, che nessuno chiede di no. Amore mio, tu sei forte e te la caverai bene nella vita. Amo profondamente te e i miei bambini. Oggi e domani, lasciate che ogni giorno spunti e splenda. Continuate a sorridere e non arrendetevi mai, anche quando la vita si fa deprimente. Per concludere, amore mio, stasera, rimbocca le coperte ai miei bambini, che stiano ben caldi. Dì loro che li voglio tanto bene, poi abbracciali per me e dà a tutte e due il bacio della buonanotte da parte del loro papà. Andiamo. Andiamo. Grazie a tutti.